Continua il botte e risposta fra l'Assessorato Regionale Trasporti e il Comitato Pendolari del Val d'Arno. La linea rettina è tra le più controllate della Toscana perché ogni giorno sui treni di quella linea viaggiano ispettori della regione. E con la convenzione che abbiamo firmato ieri e che è stata sottoscritta anche da Provincia d'Arezzo e Comune di Chiusi, avremo la possibilità di fare controlli più frequenti ed efficaci su treni in orari oggi poco praticabili. Questa è la replica dell'Assessore a Trasporti e Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli alle affermazioni del Comitato Pendolari della Vallata. Il Comitato ieri aveva infatti criticato il provvedimento della regione affermando che sulla tratta valdarnese non erano previsti controlli aggiuntivi e nuovi ispettori. Tali controlli, continua Ceccarelli, sono naturalmente spalmati su tutte le linee e su tutti i treni, ma sulla linea rettina possiamo dire di conoscere tutto in tempo reale e questo grazie anche alle segnalazioni dei pendolari. È del tutto infondato sostenere, dichiara l'Assessore regionale Trasporti, che l'aumento del numero degli ispettori conseguenti alla firma di ieri con gli enti locali non porterà alcun ispettore aggiuntivo su quella linea. È vero l'esatto contrario e il contributo dei nuovi ispettori a rettina e di chiusi sarà fondamentale in tal senso. Grazie. Grazie.